25 novembre giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne una giornata importante una giornata se vogliamo della coccarda viola una giornata dove in piazza cavurre sono stati presenti studenti e le varie donne che hanno portato avanti letture proprio dedicato a questa situazione delle donne che ahimè nonostante siamo nel 2014 ancora stiamo vivendo la mortalità delle donne per violenza è ancora molto elevata più elevata della mortalità per tumori e della mortalità per incidenti stradali e proprio per questo come amministrazione peraltro un'amministrazione con un sindaco donna e con una presenza in giunta in consiglio di un numero considerevole di donne vuole portare avanti questi principi di eliminazione della violenza contro le donne e per il consiglio comunale che ci sarà il 27 giovedì vogliamo che tutti i consiglieri abbiano la coccarda viola proprio per sottolineare questo importante principio